A mio avviso è la squadra più difficile da affrontare in questo campionato e spiego perché. O perlomeno perché ricalca il mio modo di pensare il calcio. È un po' la mia storia, la squadra provinciale che fa grandi risultati con giocatori che non sono affermati e che ogni anno si ripete nonostante cambiassero anche molti giocatori perché poi vengono acquistati da società più importanti. Quindi questo continuo rinnovamento significa programmazione, organizzazione. È una squadra che ha una struttura ben definita, dei concetti ben consolidati nei quali io li trovo molto vicini a me, questo calcio veloce, in profondità, sempre aggressivo, sempre intenso per tutti i 90 minuti e la ritengo la partita più difficile che ci possa capitare in questo momento. Primo dico e ti ho spiegato, il Trapani è 40 giorni che fa questo tipo di calcio, il Cittadella sono 10 anni se non di più. Noi dobbiamo copiare, dobbiamo imparare dal Cittadella perché è una realtà come la nostra, da questa realtà qui c'è molto da apprendere secondo me. Dal punto di vista emotivo, tensivo questa settimana dopo quel pareggio un po' che ci ha lasciato rammaricati, com'è andata? Ma questa settimana è stata un po' qualche non ottimale sotto l'aspetto della concentrazione, ma non solo per noi, secondo me è un po' per tutti, perché comunque il calciomercato distrae, e qui secondo me però le problematiche che abbiamo avuto noi, secondo me le hanno avute anche molte altre, non tutte, ma molte altre società, quindi dobbiamo già da stasera alle 20, ma io penso già da stamattina, perché abbiamo parlato chiaro con la squadra, diciamo ripristinare la massima attenzione, concentrarci su quello che è la partita di domani, perché come ho detto prima è una partita molto difficile, e quindi pensare a noi stessi, andare in campo e fare una partita al massimo delle nostre possibilità, insomma pensare a giocare al calcio, non nel mercato. Grazie a tutti.